Scelgono di parlare dando le spalle alla telecamera perché quello che hanno da dire è forte e loro, il paracadute, non ce l'hanno. Controllate quanti accessi ha il pronto soccorso di Agnone e che tipologia di interventi effettua la criptica richiesta da alcuni operatori del 118 di Venafro a seguito della notizia della demedicalizzazione notturna del Santissimo Rosario. Non si spiegano la scelta del trasferimento, nemmeno per il solo mese di maggio in considerazione della rotazione in atto. Perché a vostro avviso questa è una scelta sbagliata? È una scelta sbagliata perché di notte a Agnone ci sono quattro medici, uno del pronto soccorso, uno in 118 in ambulanza, uno di guardia medica nei festivi e prefestivi anche e uno in medicina. A Venafro c'è una guardia medica di notte, rimarrebbe. Beh, dovremmo chiedere giustamente agli abitanti di ammalarsi a giorni alterni. In questo mese si possono ammalare a Venafro, a maggio si ammaleranno a Agnone e così. Così, insomma, è una cosa ridicola ovviamente. Se ci fanno capire come mai fino adesso l'ambulanza e il medico del 118 ad Agnone, è stata un appendice del pronto soccorso di Agnone. E il pronto soccorso di Agnone è un appendice, non lo so, del pronto soccorso di Sernia, se ce lo spiegano. E ora in concreto che succede a Venafro? Anche in caso di emergenza grave, il paziente sull'ambulanza sarà assistito da un infermiere, a sua volta assistito, a telefono, da un medico della centrale operativa. I rischi sono per la salute e per la vita delle persone. L'equipaggio sarà formato da autista, un soccorritore e un infermiere. Chiaramente qua dove ha la nostra centrale operativa. Che Dio ce la mandi buona per tutti. Ma l'infermiere potrebbe materialmente eseguire tutte le manovre e tutte le operazioni salva vita? Io penso proprio di no. D'altronde anche il medico del pronto soccorso di Agnone ritiene di non poter eseguire tutto quello che prevede l'emergenza urgenza. Altrimenti non mi spiego perché i pazienti di Agnone vengono tutti trasferiti a Sernia. Se me lo spiegano magari possono formare anche il personale infermieristico di Venafro.